C'è un canale nel ferrarese che sa regalare anche in pieno inverno grandi catture. Si chiama Po di Volano, è conosciuto nel mondo dell'agonismo perché in passato si sono svolte competizioni di livello nazionale. Raggiungere questo posto di pesca è molto facile, basta prendere la superstrada Ferrara-Mare, uscire all'altezza di Rovereto e andare in direzione di Medelana. Il canale, Po di Volano, è proprio nelle immediate adiacenze. Fortuna che hanno sempre detto che a Fider ci voleva poca roba. L'argine scosseso richiede molta attenzione nella sistemazione del paniere. Una postazione comoda, sicura, ci permetterà poi di pescare tranquillamente per diverse ore. La mia linea di pesca solitamente è a ridosso dell'argine opposto. Servono alcuni lanci per individuare una zona pulita, priva di sassi, rami o incagli vari. È lì che andrò a insidiare i pesci. L'acqua fredda del Po di Volano, a mio avviso, richiede una pastura speziata. Ovviamente per esche i classici bigatini nella versione vivi e morti. La prima mangiata non tarda ad arrivare. È una bellissima brem che ha deciso di mangiare i miei bigatini rossi. A metà giornata è d'obbligo a una sosta. Un buon caffè è quello che ci vuole. Dopo alcune brem arriva finalmente la prima carpa. Non è enorme, però sono pesci molto combattivi e il divertimento è assicurato. Riprendo a pescare con l'intenzione di catturare un pesce d'Italia. Questo canale è un canale non mi ha mai tradito e anche stavolta spero veramente di riuscire nell'intento di catturare una bella carpa. E dopo alcuni minuti arriva una bella mangiata. Il cimino ha vibrato con violenza e quindi può essere solo una carpa. E infatti dopo un quarto d'ora di combattimento riesco a portare a Guadino un bel esemplare stimato un paio di chili. a Guadino un bel esemplare. A metà pomeriggio si conclude la mia pescata. Mi sono veramente divertito. Non è sempre scontato in pieno inverno riuscire a realizzare tante catture. Oggi ho preso delle bremmo, ho preso qualche carpa. Qualcuna l'ho anche persa, ma non è un problema. Succede. Direi che posso chiudere con un bilancio positivo questa giornata sul po' di volano e sicuramente mi rivedrete da queste parti. Alla prossima, amici!